Prove generali proprio in queste ore in piazza Santoronzo per la compagnia di performance volanti Sonics che si esibiranno domani sera con lo spettacolo Meraviglia. I Sonics sono una compagnia torinese che in pochi anni con le loro acrobazie spettacolari sono riusciti a conquistare il pubblico di tutto il mondo esibendosi nelle più belle piazze da Miami a Francoforte a Dubai e doveva mancare per Lecce? Ovvio che no. Meraviglia è il nome dello spettacolo, ce lo racconti un po'. Sì, allora... Ce lo racconta anzi. Intanto saluto tutti i telespettatori, si può dire così. Lo spettacolo appunto si chiama Meraviglia, la compagnia che lo mette in scena e che si esibirà appunto domani sera qui in piazza Santoronzo è la compagnia Sonics, è una compagnia completamente italiana e lo spettacolo si richiama un po' al nuovo circo, che è questo nuovo modo di interpretare il circo che ha inventato già da diversi anni il più famoso Sir du Soleil. Noi appunto portiamo in giro questo spettacolo in tutto il mondo da circa 4 anni, è la nostra prima tappa qui a Lecce e speriamo che domani sera i leccesi siano qua numerosi. Ci può raccontare un po' qualcosa proprio dello spettacolo? È uno spettacolo di acrobazia, uno spettacolo di arte visuale, ci saranno danze acrobatiche sia sul palco, ma soprattutto in volo, in aria, appesi a questa struttura che è una sfera d'acciaio di 4 metri di diametro. Questa struttura rappresenta un pianeta dove ci sono alcuni abitanti che sono i meravigliosi, che vengono richiamati sulla Terra per portare agli abitanti della Terra gioia, meraviglia, stupore e tante altre sensazioni. Un augurio anche per il 2011 quindi? Sì, l'augurio per il 2011 è di non smettere assolutamente di sognare, perché solamente sognando e perseguendo i propri sogni si possono raggiungere e realizzare tante aspirazioni. Le musiche sono composte per noi da alcuni musicisti, in particolare da Diego Maggi che è un musicista di Milano e da una coppia di musicisti che fanno musiche elettroniche, si chiamano X-Wave e loro compongono, secondo le nostre indicazioni, sono, come hai sentito, musiche molto epiche, molto potenti e che danno forza alle performance e alle danze che facciamo noi. Che connubio c'è tra lo spettacolo e questa piazza? Questa è comunque una piazza che io non avevo mai visto perché ero già stata a Lecce ma avevo visto la piazza del Duomo che è più raccolta. Questa invece dà stupore, penso che lo stupore della piazza si associ bene con lo stupore dello spettacolo che noi andremo a rappresentare. Grazie.